Ciao a tutti e bentornati ragazzi Sicuramente alcuni di voi conosceranno di molti la storia di Pinocchio per chi non lo sapete vi racconto la storia Pinocchio è un burattino animato che grazie a tante avventure diventa un bravo ragazzo chi conoscerà questa magnifica favola saprete che a un certo punto della storia Pinocchio viene truffato dal gatto e dalla volpe che gli rubano due o quattro monete cinque in realtà Pinocchio va al tribunale nella città di Achiappa Situlli e in prisione finisce lui perché se questa legge che disse i mascalzoni devono essere liberi mentre gli innocenti e i buoni devono essere portati in prisione forse forse l'hanno portato lì perché sapevano già tutto forse sapevano che sarebbe andati ad allestare e così alla fine sarebbe finito lui in prisione beh non sappiamo ma potrebbe essere anche una storia che è stata azzeccata ebbene ragazzi questo breve video finisse qui spero vi sia piaciuto se volete altre storie mettete mi piace e noi ci vediamo ad un prossimo vlog so grazie a tutti